Eccoci ragazzi e bentornati sul mio canale, continuiamo LEGO Jurassic World. Siamo qui con i nostri fantastici amici e continuiamo appunto tutto ciò. E andiamo avanti. Andiamo all'avventura. Ecco qua l'elicottero che è arrivato a salvarci. Questa è la quarta missione, la penultima di The Lost World ragazzi eh. Non so se questo è l'ultimo pezzo però credo di sì. Allora poi vediamo un po' qua. Oddio. Oh veramente bello questo. Dobbiamo togliere le macchinelle per farlo cadere. Ok. Ok. Ops. Serve una manovella. Guarda dov'è. Eccola qui. Ok. 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 Andiamo. Eccoci qui. Andiamo. Andiamo. Qualcuno sarà sopravvissuto. Sta arrivando un altro elicottero. Ok. 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 Cosa? Cosa? Ah. Tutti quelli che ha mangiato perché non possono naturalmente farmi. Ok. Centro comunicazioni. La quarta missione. Livello completato. E gioco libero sbloccato. Ok. Un po' di monetine. Vai. Ok. vediamo un po' che abbiamo sbloccato di personaggio. Minikit. No. A1. Ok. Ronald Dembo abbiamo sbloccato. Quello col fucile. Kelly Malcol. Paul Bowman. Membro dell'equipaggio delle SS Venture. La guardia Ingen Berner. La guardia Ingen Jerry. Il membro dell'equipaggio dello Yacht. Dello Yacht. Poi lo snero da caccia. Abbiamo sbloccato. Il trasporto del sito B. Diciamo che è Isla Sorna. Vedete l'ingito sit B. Ok. Qua niente. Qua niente. Ok. Continuiamo la storia. Perché siamo ancora a 3 minuti. Ah. Inizia proprio lì direttamente la... La quarta missione. Vabbè direi allora di iniziarla. Cioè la quinta. Tu avrai una grande vino curiosità. Ok. Magari non la inizio. Vediamo soltanto il filmato. Qui hanno cambiato tutti il look. 15 anni fa John Hammond ebbe un sogno. Beh, fra mezz'ora il sogno di Hammond riimmaginato di Ferrari Alcan. Stanotte battezziamo il Jurassic Park San Diego con una mega attra... La nave è qui. In anticipo. Eccola qui la nave. Eccola qui la nave. Ok. E qua diciamo che inizia la... La quarta. Cioè la luce, scusate. La quinta missione. Ok. Che farò nel prossimo gameplay. Quindi... Niente. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo con l'ultima missione. Ciao a tutti ragazzi.